Sono la modifica del MES, Conte diceva che lei però era presente. Ero presente e ho sempre ribadito la nostra contrarietà a questo accordo, quindi è vero, Conte ha ragione, io ero presente a dire no, no, no. Quindi se lui ha fatto qualcosa contro quello che il Parlamento gli ha chiesto di fare, ne risponderà agli italiani. Mi viene chiesto cortesemente di parlare dentro e quindi rispetto alle richieste. Tradotto in termini molto semplici, rischia di fare cento volte i danni che ha fatto la direttiva su Beilin, sulle banche. Quello riguardava azionisti e obbligazionisti di alcune banche, il MES riguarda il risparmio.